Voglio ricordare che la mozione fu presentata nell'ottobre del 2018 per cercare di recuperare quell'area che, ripeto, è abbandonata da oltre di 15 anni. E dall'in avanti ci sono stati tantissimi interventi, tantissime sollecitazioni ulteriori per cercare di portare a compimento quel recupero. Oggi possiamo dire che una piccola soddisfazione arriva poiché ormai a fine consigliatura si sono decisi di recuperare parte di quell'area perché da quello che ho capito sembrerebbe che ne realizzi solo 40 per adesso di posti auto. E comunque non è una soddisfazione a pieno in quanto questa situazione testimonia effettivamente la mancanza di visione di questa amministrazione, la mancanza di progettazione perché sul discorso dei parcheggi non è solo la questione di Campobuario ma andavano inseriti tutti quegli stalli che abbiamo ancora oggi inutilizzati nel centro cittadino. E mi riferisco, oltre a Campobuario, chiaramente mi riferisco ai 550 stalli che sono all'interno del megaparcheggio San Francesco e anche ai 60-70 stalli all'interno del parcheggio donatori di sangue. Ecco, se ci fosse stata lungimiranza, visione e programmazione tutto questo andava fatta a priori con una programmazione ben dilineata e con un obiettivo finale ben diverso. A Campobuario si profila il pagamento di 40 centesimi l'ora per incentivare appunto il parcheggio lì e abbonamenti mensili da 15 euro. Non si potrebbe replicare questo in tutta la città? Bisogna assolutamente farlo. Questi sono prezzi giusti, abbordabili che giustifichano anche l'utilizzo da parte dei cittadini. Ma questo è un discorso che andrebbe ampliato. Le strisce blu non vanno fatte solo in centro storico. Le strisce blu devono essere allargate anche ad altri centri urbani. vedi ad esempio Piazza Progresso a San Nicolò, vedi la zona della stazione dell'aeroporto lì dove è sorto il centro commerciale Globo e Gabrielli dove ci sono più di 100 stalli bianchi a costo zero. Ecco, se noi realizzassimo anche in queste zone e in tantissime altre zone della città altri stalli blu questo consentirebbe di abbassare i prezzi generali dei parcheggi e soprattutto nelle zone limitrofe o nelle zone comprensive del centro storico.